Abbiamo persone che vedono con favore il nostro partito in questo momento, che vedono una prospettiva. Al di là che arrivino dalla Lega o che arrivino da altri partiti, devo dire che noi abbiamo sempre cercato di aprire le porte a tutti coloro che vogliono ragionare su alcuni principi, su alcuni valori che Forza Italia ha sempre incarnato. La fuga di alcuni leghisti verso Forza Italia non sarebbe isolata. Altri politici potrebbero approdare presto il partito di Berlusconi. Ci stiamo riprendendo da un periodo difficile, spiega Fabio Chies, e vedere molte persone che si stanno avvicinando a noi dall'idea che il lavoro fatto in questi anni ha reso il partito più solido, più strutturato, per cui benvengano persone di esperienza. Il riferimento è evidente. Venerdì, l'ufficializzazione del passaggio dalla Lega Forza Italia dell'ex senatore Giampaolo Vallardi. È una persona di grande esperienza, che ha ricoperto un ruolo importante anche a livello nazionale, soprattutto per quello che riguarda i temi dell'agricoltura, ed è importante che porti le proprie conoscenze, la propria professionalità all'interno del nostro partito. Progetti e obiettivi ben chiari. Abbiamo il prossimo anno quasi 60 comuni che vanno avuti in provincia di Treviso, ci stiamo preparando, abbiamo anche dei ragionamenti che stiamo facendo sulle europee, che si voteranno nel 2024 e poi ci si avvierà verso le regionali, per cui tutte scadenze che vedono il partito lavorare molto sul territorio. Non solo politici, ma anche molti giovani, spiega Fabio Chies, si stanno avvicinando al partito, non solo. Quello che stiamo facendo in Forza Italia è recuperare tutto un elettorato che in questo momento si sente orfano o molte volte non va a votare perché non trova delle motivazioni. In Forza Italia stanno cercando di ridarle partendo dai programmi, partendo dagli uomini sul territorio. Poi se questi programmi attraggono anche persone di altri partiti, benvenga, ma noi sicuramente non facciamo scouting sugli altri partiti. Insomma, una campagna acquisti che sembra dare ragione a Forza Italia e rischia di vedere la Lega orfana di esponenti di spicco. Sull'argomento il presidente Zaia glissa e si limita a dire. Non penso nulla, nel senso che sono attività delle segreterie politiche, se vuole rispondo a dei problemi dell'amministrazione.